Buonasera a tutti, allora vedete che ho appunto le efemeridi davanti a me. Perché a quello che accade normalmente al ridosso di questo periodo dell'anno si fanno pronostici eccetera che ho sempre detto che sono delle stupidaggini enormi per il semplice fatto che sono approssimative della posizione del nostro sole ma noi siamo formati, la nostra anima è polifonica e quindi politeistica da vari dei, da varie funzioni. E quindi in effetti si parlerebbe soltanto della funzione del sole ma non certo di tutto il resto. Per cui a volte, avevo detto la domenica scorsa, che possono sembrare inattendibili delle interpretazioni ma anche perché l'astrologia purtroppo come tutte le cose possiamo dire che è una triade che... Per cui a volte, avevo detto la domenica scorsa, che possono sembrare in fondo d'un strumento. Grazie.